Buongiorno a tutti. Prima di tutto un ringraziamento a IF per l'invito, è un piacere essere qui con tutti voi quest'oggi. Oggi voglio parlarvi della relazione tra il mondo del business, il mondo del marketing poi in particolare, e il mondo del design. Questa nuova disciplina, questo modo di pensare, questo approccio che sta emergendo in tante realtà consolidate. Per esempio nella grande multinazionale americana PepsiCo in cui lavoro, in quella in cui ho lavorato prima di unirmi a PepsiCo, 3M, la compagnia della tecnologia, della scienza, dell'innovazione del Minnesota. Il design sta emergendo in queste realtà e sta diventando più indispensabile che mai in queste realtà, perché dopo una prima scommessa iniziale che hanno fatto su di me prima e poi su pochi individui, oggi sono realtà che sono in scala in queste multinazionali. Nel caso di PepsiCo abbiamo centinaia di designer in giro per il mondo, 16 location dall'Asia all'Africa, all'America, al Sud America e all'Europa. Quindi in tutte le regioni del mondo abbiamo dei team di design che abbiamo creato nell'arco degli ultimi pochi anni. Perché il design in aziende di questo genere, in aziende tra l'altro così diverse, 3M, azienda dell'innovazione della tecnologia, PepsiCo, azienda dei grandi marchi come Pepsi, ma anche Lace, Doritos, 7up e molti altri, Quaker, tutti i grandi brand dell'health and wellness più recenti, i brand dell'acqua. Perché un'azienda di questo genere ha bisogno di design? Perché un'azienda come 3M aveva bisogno di design? E perché tante altre aziende stanno investendo su questa disciplina? Innanzitutto perché il mondo sta cambiando, sta cambiando in modo radicale, è abbastanza ovvio e visibile agli occhi di tutti e ci sono tutta una serie di dinamiche che stanno accelerando questo cambiamento. Oggi chiunque può avere un'idea, avere accesso a investimenti, al denaro, alle risorse in modo più semplice che 20 anni fa, 30 anni fa, solo andando online per esempio trovando investimenti in siti come kickstarter.com oppure comunque grazie alla proliferazione di fondi di investimento, di organizzazioni che sono a caccia di idee ogni giorno. Viviamo nell'era delle start-up e quindi è più facile, è più ovvio se volete oggi più che mai trovare accesso a questi tipi di finanziamenti. Il costo delle tecnologie si sta abbassando, si abbasserà sempre di più spinto da la globalizzazione e di conseguenza si sta abbassando anche il costo del manufacturing. Quindi produrre, una volta che si hanno quei soldi, produrre costa meno. E poi il più grande cambiamento che ha stravolto tutto è il digitale, la piattaforma digitale che da una parte permette a chiunque di vendere a chiunque, quindi il mondo dell'e-commerce, e dall'altra permette a chiunque di promuovere i propri prodotti con investimenti più ridimensionati, più accessibili, talvolta anche senza investimenti, utilizzando le piattaforme dei social media. Quindi tutte queste aree dove le grandi multinazionali creavano le loro barriere all'entrata nel passato, stanno dando la possibilità a chiunque, all'uomo della strada, alla donna della strada, di poter andare a competere con i grandi brand. E questo sta creando una situazione per cui o si crea qualcosa di straordinario per la persona, si mette l'essere umano prima di tutto, prima degli obiettivi finanziari, prima dell'innovazione tecnologica, prima di un'ossessione ai numeri, le vendite, la potenza del brand. No, non si può più creare un qualcosa e proteggerlo attraverso la scala del brand, la scala degli investimenti, la potenza dei brevetti. Non è più possibile fare ciò. Bisogna creare qualcosa che abbia senso, che abbia rilevanza per l'essere umano, per la persona, per quello che molti chiamano il consumatore, che è una parola che io non amo particolarmente, perché indirettamente o più o meno direttamente si lega l'idea di identificare l'essere umano come un essere che consuma, e quindi come un'entità di business, prima di tutto, su cui fare soldi, e poi come un'entità che appunto consuma in un mondo in cui uno dei più grandi problemi è la scarsità di risorse. Quindi non mi piace chiamarlo consumatore, l'essere umano, la persona, eventualmente l'utente, focalizzarsi sui suoi sogni e suoi bisogni e creare prodotti e brand che siano eccezionali. Non c'è più posto per la mediocrità. Stiamo entrando in quella che mi piace definire come l'età dell'eccellenza. Questo si applica poi anche al modo in cui costruiamo brand, al modo in cui comunichiamo brand esistenti, anche brand da miliardi di dollari, come i brand, per esempio, numerosi dei brand nel nostro portfoglio. Ci stiamo spostando da una costruzione del brand top-down, dove un brand, un'azienda, un marketer parlava agli individui, alle persone, con una comunicazione unidirezionale, facendo leva soprattutto sul canale televisivo, che raggiungeva le case di tutti noi italiani, americani, in giro per il mondo, e si imponeva questo messaggio, questo messaggio che veniva definito a tavolino, quando si ridefiniva il brand, e poi ogni anno attraverso le campagne, con questo ciclo annuale delle campagne, che poi partivano dalla televisione e si irradiavano su altri media e piattaforme. Oggi, invece, non siamo neanche più gli attori della comunicazione, siamo l'oggetto di una comunicazione, che avviene attraverso persone, che scambiano idee e dialoghi attraverso i social media. Stiamo passando da un mondo dove c'era la possibilità di comprarsi il diritto di parlare alle persone. Più soldi avevi, più diritto avevi e più riuscivi a parlare alle persone, a un mondo in cui bisogna guadagnarsi, guadagnarsi il diritto di essere l'oggetto della conversazione, neanche di parlare alle persone. Sì, ovviamente possiamo comprare ancora media sui canali digitali, ma poi le conversazioni tra le più rilevanti sono le conversazioni che avvengono tra persone e quello che le persone dicono di noi, dei nostri brand, delle nostre aziende. Quindi sta cambiando totalmente il modo di fare comunicazione. Ed è qui che il design inizia ad avere un ruolo fondamentale. In primis, quando parlavamo prima dell'innovazione, perché l'approccio design thinking all'innovazione, ovvero il crocevia tra empatia, strategia e prototipizzazione, così come definiamo il design thinking, ovvero empatia è la capacità di capire cosa è rilevante alle persone, strategia è la capacità di capire cosa è rilevante all'azienda in tre dimensioni, dal punto di vista di modello di business, dal punto di vista di processi dell'azienda e poi dal punto di vista della cultura dell'azienda. Quindi cosa è rilevante alla persona? Empatia. Cosa è rilevante all'azienda? Strategia. E poi si inizia a creare, a prototipizzare con uno sketch su un post-it, con un reale prototipo funzionante, tutto ciò che c'è nel mezzo, la prototipizzazione è uno strumento del pensiero, è un qualcosa che accelera i processi, è un qualcosa che ci avvicina alle persone per cui progettiamo, è un qualcosa che facilita le conversazioni all'interno dell'azienda attraverso le varie funzioni, con le varie funzioni, dalla R&D al marketing, il design, consumer insights, per creare dei prodotti che siano rilevanti all'essere umano. Questa è una dimensione, la dimensione dell'innovazione. E poi c'è la dimensione del branding, laddove, come abbiamo detto prima, la cosa più importante è fare in modo che le persone parlino, parlino di noi, e parlino in modo positivo, perché stanno vivendo esperienze positive con i nostri brand. E il primo passaggio epocale che è avvenuto nel mondo del marketing, anni fa, è stato quello di spostare i budget, media, e quindi la creazione di contenuto dalla televisione alle piattaforme digitali. Molte aziende si sono un po' arenate in questo, se vogliamo, nel senso che oggi si suddividono i budget tra le varie piattaforme, ma sempre con questa logica della comunicazione top-down, e non sfruttando tutta una serie di altre possibilità che invece sono lì, servite a noi su un piatto d'argento. E a cosa mi riferisco? Al fatto che se si disegna un prodotto, un packaging, un'operazione di licensing, un'esperienza nel retail, un'esperienza nei punti di aggregazione, nelle piattaforme di comunicazione, si pensi al mondo della musica, allo sport, alla moda, se si disegna ognuno di questi touch point del brand, pensando a creare un qualcosa che generi conversazione, che sia interessante per le persone dal punto di vista intellettuale, ma anche emotivo, che li appassioni e che li leghi al brand e che crei fedeltà alla marca, se si guardano tutti questi touch point del brand in questo modo, si capirà immediatamente che ogni touch point del brand è potenziale contenuto. Il contenuto non è solo quello che creiamo e spingiamo attraverso i canali digitali o non, il contenuto può essere una serie limitata della lattina Pepsi, per esempio, che abbiamo fatto per il Super Bowl e che facciamo ogni anno per il Super Bowl, quella dell'anno scorso ha avuto più impressioni sull'Instagram di Pepsi, il numero maggiore di impressioni nella storia di Pepsi. Quindi noi abbiamo una marea di contenuto creato in modo tradizionale per le nostre piattaforme social media, abbiamo fatto una lattina generata in poche settimane dalla forma particolare e abbiamo avuto più like e più impressioni nella storia di tutti i social media di Pepsi comparando quell'operazione a tante altre operazioni di ogni genere che abbiamo fatto. Packaging che diventa contenuto. Oppure le grandi collaborazioni che stiamo facendo con marchi come D-Square, come Puma, come Fila, con Nike e con tante altre per creare dei prodotti ispirati dal mondo Pepsi, ispirati dal mondo Gatorade, felpe, cappellini, scarpe, sempre legati ovviamente a qualcosa che abbia senso per la cultura popolare, per quella che in americano chiamiamo la pop culture, sempre legandosi a qualche evento, legandosi a qualche star del mondo dello sport oppure legandosi a qualche concetto, a qualche significato che sia rilevante per le persone. Oppure la creazione di pop-up store o pop-up restaurants per creare esperienze particolari. Abbiamo avuto a New York per quasi due anni una cola house tra il pop-up e il permanente, contenitori di esperienze sfilate di moda, concerti, ma in realtà era un ristorante aperto a tutti, tutti i giorni con un menù con la cola nut inserito nei vari piatti e poi con tutta una serie di cocktail legati al mondo delle cola, ma non era troppo Pepsi, era il mondo delle cola, era Pepsi in modo soft, era un'esperienza accattivante per i new yorkesi più sofisticati, ma che poi creava un effetto halo in tutte le varie categorie di nostri utenti e poi sui social media ed oltre. Quindi tutti i punti del brand possono diventare eventualmente contenuto. Se volete vedere un po' più di questi esempi potete andare sul nostro sito pepsico.com slash design e troverete molti altri esempi, un libro, un paio di libri che pubblichiamo ogni anno con tutta una serie di appunto questi esempi. Quindi il mondo del branding, il modo di creare marca, il modo di creare engagement con la marca sta cambiando e c'è una possibilità di avere la comunità del marketing in collaborazione con la comunità del design e quindi di metterle in connessione, in dialogo come dei peers allo stesso livello per creare contenuti rilevanti a 360 gradi creando questo engagement. Come lo facciamo? Ci sono svariati criteri e filtri che prendiamo in considerazione ogni giorno. Potrei parlare per ore di questi criteri di questi filtri ve ne cito alcuni nei limiti del tempo che abbiamo. Beh, prima di tutto se pensiamo al modo in cui le persone si interfacciano con ogni prodotto ogni brand ogni giorno ci sono tre livelli di interazione di benefici che le persone cercano. Il primo è quello che chiamiamo il beneficio funzionale il bisogno funzionale io compro una bottiglia d'acqua perché ho sete mi devo idratare compro una macchina perché mi devo muovere da A a B da un punto A a un punto B il secondo livello è quello che chiamiamo il livello emozionale ovvero compro un prodotto perché lo amo perché mi piace al di là di quello che possano pensare gli altri compro una Pepsi perché mi piace il sapore della Pepsi compro una scarpa di Prada perché mi piace il brand e quello che significa e quello il suo stile e tutto ciò che veicola compro una scarpa di Prada perché dal punto di vista invece del prodotto e non del brand perché magari mi piace la forma specifica compro una Leboutin perché mi piace quel tocco rosso sotto la suola compro un Harley Davidson perché amo il significato di quel brand il significato di libertà ma lo amo io personalmente e poi mi piace la forma di quella moto quindi pensate ad ogni prodotto rilevante per voi e quando lo comprate lo comprate perché vi piace in modo particolare emozionale è il valore anche dell'estetica non solo del 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 significato del brand è il valore poi della funzionalità e delle due combinate insieme poi c'è una terza dimensione di cui spesso ci dimentichiamo a meno che non lavoriamo nel mondo del lusso della moda dell'ospitalità legata al lusso ancora una volta ed è il valore semiotico di questi prodotti di questi brand ovvero quando io tiro fuori un certo tipo di brand di patatine o cammino per strada con una bottiglia d'acqua sto comunicando al mondo i miei gusti sto parlando attraverso quel brand quel prodotto ad altri sulle scelte che faccio quando metto una scarpa di prada o un orologio rolex oppure uno swatch guido un arli davidson oppure un altro brand di motociclette che vi può appassionare in base al brand che scelgo e al prodotto che scelgo sto raccontando una storia ogni tanto ne sono consapevole sono molto consapevole come utente come persona della storia che raccontando spessissimo spessissimo non sono neanche consapevole sto raccontando delle storie 24 ore su 24 senza neanche rendermene conto come marketer e come designer quello che facciamo è raccontare e disegnare queste storie che i nostri utenti racconteranno e mentre nel lusso è ovvio come possiamo prendere categorie dove ci sono prodotti che non vengono usati per raccontare delle storie e trasformarli invece in cantastorie trasformarli in qualcosa che è un prodotto una soluzione un qualcosa che dica qualcosa di te al resto del mondo tra l'altro se ciò succede non solo sarai tu il cantastorie nel momento in cui cammini nel mondo ma poi condividerai questi messaggi questi contenuti con il resto del mondo penso per esempio al nostro brand di acqua e life water che abbiamo lanciato qualche anno fa dove ogni bottiglia diventa un'occasione di collaborazione con un artista e quindi tutti i vari label sono disegnati da artisti cambiano le collezioni ogni tre mesi ogni tre mesi c'è un nuovo tema che si lega a delle tensioni culturali per esempio una collezione di qualche tempo fa era le donne nel mondo dell'arte oppure gli artisti che lavorano sulla sostenibilità e tanti altri temi dove ci sono delle tensioni specifiche e quindi la bottiglia diventa bella da vedere link emozionale racconta una storia al mondo con la sua estetica nel momento in cui ce l'hai in mano e cammini per le strade di New York ma poi non è solo una storia estetica di bellezza del brand e dell'opera d'arte dei vari artisti con cui lavoriamo ma anche una storia di un messaggio sociale un grande brand che investe sulla comunità dei creativi degli artisti gli aiuta ogni collezione non è solo il label di questi artisti emergenti sulla bottiglia ma poi dopo gli aiutiamo in tutta una serie di attività gli diamo un'esposizione incredibile investimenti sulle loro collezioni e così via e quindi diventa anche un messaggio che si veicola al mondo quando si cammina per le strade di ancora una volta New York Milano Roma con quella bottiglia si grida al mondo questo messaggio per cui la mia mentalità il mio credo è allineato a questa comunità creativa a questo tipo di tribe di tribù a cui in qualche modo o appartengo ma al più delle volte perché questo è un mercato di massa per cui ho simpatia o per cui mostro supporto quindi funzionale i bisogni e i benefit funzionali emozionali e i semiotici sono tre criteri importanti che prendiamo sempre in considerazione un altro filtro nel momento in cui disegniamo in cui creiamo quel packaging quel prodotto quell'esperienza allo stadio di football americano di calcio in cui sponsorizziamo Pepsi che sponsorizziamo attraverso il brand Pepsi o Gatorade o Lace si pensi alla Champions League o al Super Bowl americano e in tante altre situazioni ci chiediamo sempre come possiamo creare un'esperienza in tre stadi vogliamo creare un primo momento di scoperta quello che chiamiamo discovery quando vai a uno stadio e ti aspetti magari eventualmente il brand Pepsi all over the place ovunque e quando lo vedi ti dici ah vabbè questo brand ha un sacco di soldi e può sponsorizzare un sacco di stadi se invece arrivi lì e vedi magari una teca con una collezione creata con un brand di moda famoso italiano tutta ispirata al mondo Pepsi disegnata con quel brand di moda ma in partnership con Beyoncé che poi viene promossa è stata promossa la notte prima al concerto che c'è stato in quello stadio e poi viene appunto mostrata durante come decorazione se vogliamo dello stadio durante la partita di calcio di football del giorno dopo allora iniziamo a usare quello spazio quel real estate che già avevamo in un modo diverso in un modo più rilevante e c'è una grande probabilità che le persone prenderanno questo telefonino faranno una foto e la condivideranno quella prima fase è la fase di scoperta ti imbatti in qualcosa di cui che non ti aspettavi può accadere anche nel retail con quella special edition packaging che non ti aspetti che ti piace particolarmente o quel prodotto particolare che trovi esclusivamente con quelle finiture e quei colori in quel negozio in quel cliente per il brand in quel momento hai il momento di discovery e c'è quell'eccitazione della scoperta tenere l'eccitazione alta è veramente un obiettivo importante e non è semplice si può fare innovazione l'eccitazione va a picco e poi inizia a scemare come tenerla sempre alta in un mondo in cui le persone sono bombardate da contenuti sono bombardate da informazioni dove Pepsi non compete solo con un altro brand rosso di Atlanta ma dove compete eventualmente con l'ultima canzone di Lady Gaga con l'ultimo lancio di un telefonino di Samsung o di Apple con qualsiasi evento dello spettacolo competiamo per l'attenzione competiamo per Mindshare e quindi avere attraverso ogni touch point del brand packaging licensing experiencing retail experiencing in tutte le piattaforme in cui comunichiamo musica, sport e moda avere dei momenti che creano quell'attimo di discovery e quindi aumentano il livello di eccitazione creano poi il secondo stadio se vogliamo che è quello che chiamo ownership ovvero in quel momento quel contenuto diventa tuo tu stai vivendo quell'esperienza ti eccita è magica e quindi è tua perché sai che molte persone non la stanno vivendo come la stai vivendo tu non sono davanti a quell'evento a quel packaging a quella soluzione come ci sei tu quindi questo è l'attimo di ownership e poi dopo a quel punto c'è l'attimo di condivisione a quel punto sei spinto vuoi condividerlo col mondo e può essere che ancora una volta lo fai con questo telefonino raggiungi centinaia migliaia milioni miliardi di persone in base al tuo reach sui social media e poi anche non solo sui social media ma anche nelle tue comunità nella tua cerchia dove diventi ambasciatore del brand e queste sono e questo è l'obiettivo finale creare brand attraverso i nostri brand ambassador che sono i nostri utenti le persone che usano e amano i nostri prodotti e che diventano degli ambasciatori della marca in modo spontaneo lavoriamo sempre su tre stadi tre obiettivi quando disegniamo prodotti brand packaging comunicazione il primo è creare la reazione viscerale e queste sono teorie che ho sviluppato negli anni prendendo ispirazione dalle teorie del dello psicologo human scientist Donald Norman parlava di reazione viscerale definendosi per esempio alla relazione che c'è tra un uomo e una donna o comunque quando vi imbattete una persona particolarmente interessante da svariati punti di vista e c'è quelle farfalle nello stomaco quel qualcosa che arriva da dentro che bypassa la razionalità vi piace può accadere davanti a un paesaggio particolare davanti al Grand Canyon una spiaggia delle Maldive le Alpi innevate è qualcosa che arriva da dentro di emozione e può accadere quindi attraverso prodotti e brand create sempre dei prodotti attraverso tutti i touch point delle esperienze che creino quest'impatto viscerale perché è questo che attiva l'eccitazione e quindi questo è il primo primo goal che ci imponiamo che ci che ci diamo e il secondo poi è quello di creare la relazione interattiva nell'analogia di Don Norman è quando esci con quest'uomo o questa donna e ti piace stare con loro razionalmente ed emozionalmente lo stesso vale quando siete in una spiaggia paradisiaca ai Caraibi e emozionalmente e razionalmente siete lì e vi piace da tutti i punti di vista è il perfetto equilibrio tra le due dimensioni ed è quello che dobbiamo cercare ogni volta che creiamo una comunicazione che deve essere accessibile user friendly intuitiva facile a capire ma al contempo che deve emozionare deve creare eventualmente anche del discomfort momentaneo qual è il grado giusto di equilibrio tra comfort e discomfort e questo è il grande la grande chiave la grande differenza tra il successo e l'insuccesso di ogni tipo di comunicazione e poi alla fine c'è la parte riflessiva ovvero torno da questa esperienza con quest'uomo con questa donna e condivido con il mondo questa esperienza torno alle mie vacanze e condivido le foto delle mie vacanze con chiunque sono talmente emozionato e soddisfatto anche intellettualmente della relazione con questo prodotto che ne voglio parlare a tutto il mondo attraverso le mie piattaforme le piattaforme a cui ho accesso se vogliamo sintetizzare viscerale interattivo riflessivo non è altro che acquisto riacquisto e la raccomandazione al resto del mondo o se torniamo al lavoro del designer del marketer è creare wow effetto wow con i nostri prodotti le nostre soluzioni le nostre comunicazioni è creare una relazione di soddisfazione emotiva intellettuale e infine creare quell'orgoglio che spinge le persone a condividere i nostri prodotti con il resto del mondo voglio chiudere citando solo qualcosa che per me è importante basilare in tutto quello che facciamo come marketer e designer in questo mondo abbiamo un grandissimo potere perché tutto ciò che facciamo tocca la vita delle persone ogni soluzione che creiamo tocca la vita delle persone ogni giorno può essere attraverso un'esperienza può essere attraverso appunto un prodotto un packaging possiamo creare attimi di convenienza di emozione di sicurezza di stile dipende dalle categorie di prodotti in cui lavoriamo quindi questi attimi devono essere disegnati creati pensati pensando sempre in positivo creando valore per la società creando prodotti e soluzioni che siano sostenibili da un punto di vista ecologico da un punto di vista emotivo da un punto di vista intellettuale da un punto di vista sociale quindi rispettosi da un punto di vista funzionale da un punto di vista finanziario siano dei prodotti che creino valore per la società se siamo tutti spinti dalla creazione di questo valore direttamente poi creeremo valore anche per le nostre aziende ma soprattutto creeremo un valore infinito per la società in cui viviamo ognuna di queste esperienze ognuna di queste soluzioni sono frammenti di una potenziale società felicità sociale che possiamo plasmare e condividere con il resto del mondo attraverso i nostri atti di comunicazione e attraverso i nostri prodotti per noi e per le generazioni future vi ringrazio e Grazie per la visione!